L'indagata è l'insegnante, io come responsabile di scuola. Essere indagata è da cose che non esistono, è grave, non sanno come impangare. L'ambiente è serenissimo, hanno messo le telecamere, non esiste nulla, che non c'è nulla. Se uno alza la voce perché a un certo punto uno tira, guarda adesso, tu allora che fai? Smettila! Così dall'asilo infantile Rosa Moretti di San Giuliano, frazione di Arezzo, respingono al mittente tutte le pesanti accuse che sono in questo caso contenute in una inchiesta giudiziaria. Un'inchiesta aperta dalla procura di Arezzo in seguito alle denunce di alcuni genitori di bimbi che frequentavano questa scuola dell'infanzia cattolica. Ci sono state anche delle registrazioni video dalle quali però non sarebbero emersi i maltrattamenti. 45, i bambini fra i 4 e i 5 anni che frequentano la struttura. La storia era iniziata più di un anno fa dietro le denunce di alcuni genitori. È scattata l'inchiesta e la struttura è stata messa sotto video sorveglianza, ma dalle immagini raccolte dalla squadra mobile di Arezzo non sono emersi maltrattamenti fisici nei confronti dei piccoli. C'è da dire che gli ambienti dell'asilo sono molto vasti e ci potrebbero essere state delle zone sfuggite all'occhio della telecamera, ma non all'orecchio. Dalle registrazioni audio infatti emergerebbero brutte parole e voce alta. Su questo si basa infatti l'inchiesta, accuse respinte con forza dalla responsabile della struttura, una suora settantenne indagata assieme ad una maestra di 40 anni. La struttura è aperta da 70 anni. Il procedimento è ancora in fase di indagine. Si è già svolta un'udienza davanti al GIP Giampiero Borraccia, durante la quale il giudice ha disposto una perizia affidata alla psicologa rettina Veronica Andreini. Ci sono 90 giorni di tempo per capire se i bambini potranno essere sentiti con incidente probatorio.